Per fare contro i geni di scontata riera, un ultimo salo in quella notte infanti, la cede bisognava andare avanti, subito intanto dalle amate sponde, sono messo i geni di muri a bellonde, ero passato con ce l'uginiero, il piano in ormoro non passa lo sfambiero. Essendo io di seconda categoria, mi toccava fare solo sei mesi. Mentre ebbi la cattiva sorpresa, quando stavo per andare in concedo, scoppiò la guerra mondiale, cioè il 24 maggio dell'anno 1915. Così non se ne parla più di concedo. Viceversa, venne l'ordine di partire di fronte austriaco, che avvenne in un giorno di quel maggio stesso. sui monti, sui monti, sui monti, a quelle già, poi da là, evviva, evviva il reggimento, evviva, evviva il morto degli anni, evviva, evviva il reggimento, evviva, evviva il corpo degli anni, sui monti, sui monti che noi saremo, voglieremo, voglieremo le stelle al fine. Cara moglie, io per ora mi trovo ancora qua, fermo sotto una galleria in aspettativa di andare in combattimento. e a causa del cattivo tempo non siamo ancora andati. Mi dispiace per voi che piova, ma qua vorrei che piovesse sempre. Che infine che piove non si va contro la morte e intanto il tempo passarà. Che chissà che il Signore emetta qualche manù di terminare questa brutta guerra. Che manda dire ai suoi alpini e che lo vengano a ritrovare. I suoi alpini che manda dire che non ascarpe per camminare. O con escarpe, o senza escarpe i miei alpini li voglio qua. O con escarpe, o senza escarpe i miei alpini li voglio qua.